L'incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì 29 luglio, poco prima di mezzogiorno, alla nuova Sarno di Busano. Pare che una gru si sia ribaltata. Nell'incidente è rimasto ferito un operaio quarantenne di origine marocchina. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'edì soccorso del 118, i vigili del fuoco di Ivrea, i carabinieri e lo spresal dell'Aselto IV. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale CTO di Torino. Pare che abbia riportato alcune fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ha certamente in corso sull'accaduto. Grazie. Grazie.